Henry quanto tempo ci vuole per Battisti? Ciao. Ciao. Senti, oggi ho comprato una cassetta con il Tore di The Love nella versione di Gloria Jones. Volevo sapere se avevate anche quella di Soft Cell. Invece di New Romantic, chi mi consiglia? Sì, allora, per la prima cosa che ci hai chiesto credo non ci sono problemi. Invece per quanto riguarda New Romantic... Avalon, The Roxy Music. No, cavolo, che consiglio è? Non è troppo banale, mi serve il consiglio di un esperto. Allora, Drew, devi spendere un ballè. Oddio, ora mi dirai Ryo di Duran Duran? No, invece ti stavo per dire Forever Young di Alphaville. Sicuramente non deviare la tua corte media col tuo club. Vabbè, Ultravox, Vienna. Tu sai allora. Vabbè, hai voluto tu, eh? Medford, Tear for Fears. Non lo conosco. Eh, non lo conosci perché metà della New Wave è New Romantic. Se ti piace la New Romantic, ti piacerà sicuramente anche la New Wave. Senti, facciamo così. Io te la metto in coda alla cassetta, così poi te la ascolti. Se ti piace, vieni qua e mettergli pure un'altra. Che dici? Va bene. Ma se non mi piacciono, torna e me la rifai. Certamente. Non mi piacciono, se non mi piacciono. Non mi piacciono, non mi piacciono. Ma